ciao a tutti ragazzi dal vostro bomber jimmyjf93 bentornati nuovamente sul mio canale grazie a un nuovo video precisamente siamo su fifa 16 non zoom account principale perché proviamo a fare la modalità draft foot giocatore singolo perché io sul mio non ci riesco vabbè può essere playstation store che si è andata a fagioli abbiamo il collaboratore proveremo sì proviamo un po cosa succede io ho provato a parlare con game advisor dell'elettronic arts per altre questioni ovvero game advisor precisamente admin dei giochi dai prova proviamo sto draft foot allora siamo in un altro account l'abbio già detto accesso a draft foot vediamo io dico che vediamo benvenuto a draft foot si possiamo scegliere il giocatore va bene vince i grossi premi voglio usare un gettone si guarda ok quello facciamo la prima partita normale si dai esordie non ci posso dire ma che cavolo ragazzi è l'acconto italiano quando ci vuole quando ci vuole ci vuole ci vuole ci vuole dire danno oppure quelle dell'export che devono rompere gli zebedei non ci sa perché ci sta mettendo tanto a caricare gli zebedei no guarda possiamo scegliere il modulo che modulo è normale 4 3 3 offensi cioè ragazzi ho fatto anche a qualche video ci vuole la canzone mitica vabbè messi ragazzi questo qui proprio xxl scuro giochi vabbè possiamo proseguire eh no si sta caricando gli esport gli serve quindi ragazzi devo dedurre che c'è qualche problema anzi inizialmente quando parti con vifa altrimenti team c'è stato qualche problema quindi ormai stai ma secondo me è meglio griezmann perché fa indessa quando si questo ma anche anthony martial era meglio ah ti fa anche cambiare si quando è prima selezione giusto allora ragazzi stavo parlando di una cosa io ho fatto qualche video dove mi lamentavo di fifa 16 di balla di balla vicino a messi però sei griezmann il migliore nell'atletico madrid allora secondo me quello che è successo sul mio neymar rossangez neymar rossangez neymar neymar si insomma il tridente attacco della liga bb1 quindi facciamo questi discorsi così a cazzo di cane probabilmente appena ti è uscito il gioco io due giorni dopo forse ma anche arturo vidalgo ho provato ad accedere a draft foot e sempre come al solito da una settimana questa parte mi dice attualmente ci sono dei problemi con il negozio io questa mattina insomma abbiamo parlato con questo addivisori e le mortacci loro e di tutti i loro parenti comunque mi ha detto se vuoi terminare la questione dei fifa points dei fifa points è meglio lascia stare quella di draft foot allora io aspetto probabilmente un altro po' e li ricontatterò subito nuovamente perché è impossibile cioè io voglio provare anche se online credo che sia una cosa mitica a fare trofeo gli invengibili è anche un po' difficile vabbè facciamo un misto tra spagnolo e inglese si direi che è ottimo perché già i primi 5 tutti spagnoli si può dire si vabbè vediamo chi c'è semmeno al balò gioia al frango gioia al frango gioia al frango ehi tito tito è adesso con me si tranquillo 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 mamma mia ma un bambino esce uno ronald ma che schifo è un bambino ma dai ma che cosa fa che cavolo è un difensore ah ma forse fa indesa con ramison ah perchè è del left qua è con i buoni diego godi si fa indesa con gross con gross si non ci stanno tante linee verde ragazzi però siamo già indesa 72 vediamo il terzino dovrebbe essere della liga spagnola speriamo speriamo non mi dire che si disconnete oh Mendi tremolinas no tremolinas 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 il tremolo quindi il portiere Andrea secondo me che è successo perchè non mi faccio si è aggiustato il server forse perchè questo di Andrea l'angelotta ah un grab si è fatto si ma io non lo so se Andrea a inizializzare la playstation 4 si fanno i trofei se no se no lento ma che è schifo Guglielmo Viviano ma da dove per lo sito ci no Viviano portiere portiere che hai messo il titolare ora io se mi faccia vendesse con godini ah si oh Zumba Zumba Fitness Zumba Fitness sarebbe loro ma non saprei comunque scrivetemi nei commenti se avete avuto lo stesso problema anche se io su web nei forum riguardanti FIFA 16 di tutte le console naturalmente da Michele Snow però si ragazzi magari faremo anche una squadra la più lenta di FIFA no ma guarda in avanti è impossibile fare questo no mi sembrava Ronaldo si io direi che però lo troveremo Ronaldo tranquillo 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 ok eh Joasim si no Nando no no Nando 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 CR7 io l'avevo detto però eh no ma non fa indese abbiamo trovato Messi Neymar e CR7 magari avremo sta fortuna nei pack opening se riusciremo a farlo quindi io ho provato anche a restare il gioco ma niente di di fatto vabbè vabbè buonanotte buonanotte bella a tutti ragazzi siamo ritornati però con la partita abbiamo costruito la draft foot attualmente attualmente sta giocando il nostro collaboratore tra virgolette e la difficoltà vabbè è ignota possiamo risolvere Ronaldo primo gol direi che stavolta il gatto funziona meraviglia perchè c'è il pro perchè c'è il pro si ehm no 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 guardalo che cavolo che cavolo che cavolo è salvato meno male meno male che la difficoltà è come è delle tante si è come meglio male Messi Messi un long shot niente da fare il cortieri la parla un long shot let's kill di Messi oh e Messi la mette dentro è come bello Messi però cava ci hanno fatto pure i tatuaggi beh mamma che figa guarda la 2 a 0 cioè Bologna sverginato 2 a 0 quindi stiamo vincendo noi ma io ancora non riesco a credere che a me non funzioni la modalità ultimate team si quella funziona draft dico io se non sapete fare queste cose così pensate a fare i formaggi craft che non so il pecorino eh ottimo intervento senza problemi qua cazzo sui vabbè ragazzi eh siamo arrivati quasi a termine della partita visto che è degenerato il tutto qui sul nuovo account della funzione draft foot funziona è anche meraviglia vabbè che la difficoltà era dilottata anzi dilettante o esordiente nooo stava facendo 10 a 0 si vabbè ragazzi come ho sempre detto potete iscrivervi al canale se vi piace i miei video è terminata la partita vi abbiamo mostrato più o meno cos'è la modalità draft foot è anche una cosa schifosa almeno più quando riguarda il mio account il negozio si con le grandi così ci becchiamo alla prossima un saluto a bomber jimmyjf93 trattino e da Andrea ciao ragazzi ci becchiamo alla prossima ciao